la ragazzi manca poco più di una settimana Leggios Arena vi aspetto tutti lì ricordo che l'evento per divulgare bene le MMA quindi ci saranno incontri di MMA semi pro e da professionisti quindi venite da vicino se vi siete avvicinati adesso a questo sport in modo che vi appassionate sempre di più invece per gli appassionati vi aspetto tutti lì io e Ricco Rodriguez Leggios Arena venerdì 29 al tenda e strisce dai cazzo